ben ritrovati di nuovo su review.io oggi vado a recensire insieme a voi un prodotto davvero carino ma decisamente insolito si tratta di un bouquet di chupa chups prima di iniziare con la video recensione vi invito ad iscrivervi al canale perché seguiranno tantissime recensioni interessanti quindi iscrivetevi partiamo subito con la review come vedete in queste immagini si tratta di un bouquet di 19 chupa chups al gusto frutta un regalo decisamente ideale particolare carino per stupire la vostra fidanzata per stupire una vostra amica che si laurea per i compleanni ma anche per la festa della mamma o per i vostri figli mi lascio tra l'altro il link in descrizione di amazon perché costa solamente 10 euro questo è il librettino che è presente avvolto da un nastrino rosso dice tutti gli ingredienti il peso di 228 grammi è un bouquet di 22 cm c'è tutta questa plastica colorata con tutti questi disegni veramente carini enjoy c'è la torta eccetera e al di sopra come potete vedere ci sono i vari chupa chups avvolti da questa plastichina trasparente in totale sono sei gusti abbiamo limone arancia fragola mela anguria e ciliegia e sono gluten free quindi anche perché è intollerante vanno benissimo non si può scegliere una combinazione di gusti diversi e solo questa ma sono decisamente interessanti come vedete c'è una struttura rossa di plastica che li sostiene e una volta spacchettati dalla plastica sopra si possono sfilare e gustare quindi se volete sorprendere la vostra ragazza una vostra amica questo qua è il regalo perfetto iscrivetevi per rimanere sintonizzati link in descrizione del prodotto alla prossima review